Grande successo anche ieri per la proiezione del film Il maestro più margherita al cineteatro Eduardo De Filippo di Agropoli. La commedia prodotta da Film Studio, scritta da Giovanni Laurito per la regia di Gianni Petrizzo, ha incantato il pubblico presente tra risate ed emozioni. I film sono come un pochino come i figli, questo è il secondo terzo figlio. Sì, in realtà è il secondo figlio perché ce n'è un altro che è un nipote, li cito un attimo così i nostri telespettatori potranno conoscere la mia filmografia. Password girato nel 2002, uscito nel 2007, subito dopo Health Fever, e questo è il nipote, girato nel 2009, distribuzione 01, quindi la RAI, e questo è quello che poi alla fine mi ha consacrato come autore, soprattutto stasera ad Agropoli. Infatti ne approfitto per ringraziare tutti perché per me era la prova concreta, la prova del 9 perché nell'anteprima fatta a Vallo della Lucania, il 17 di dicembre, era comunque la prima cinematografica, tutta la comunità presente, quindi un poco erano amici, quindi facevano il tifo per me. Qui ad Agropoli non conoscevano nessuno, insomma, tranne il regista, quindi mi hanno onorato tutti e lo hanno apprezzato tantissimo e di questo ne sono davvero contento e questo mi dà la forza di continuare con le prossime opere cinematografiche che mi aspettano. L'ambientazione è degli anni 60 e quindi il maestro in Margherita racconta la storia di un maestro che da Salerno arriva in un posto di montagna, di campagna e lì insegna a tantissimi ragazzi, all'epoca negli anni 60 c'erano le classi miste, quindi bambini di una serie diversa di età, quindi frequentavano la stessa classe e in questo ambiente lui si innamora di una ragazza del posto Margherita, l'amore è contrastato, ci saranno una serie di vicissitudini, insomma, poi non vi svelo il resto. Per quanto riguarda invece gli alunni hanno un conflitto interiore, ovvero quello che forse ancora oggi è molto reale, è recente, cioè rimanere in questo posto, che cosa mi può offrire questo posto? Meglio andare via. E poi c'è il ragazzino che alla fine non vuole studiare perché dice i libri non servono a nulla, ma in realtà forse, dico forse, si devono ricredere perché il finale non ve lo svelo, anzi ne approfitto per salutare anche il professor Vittorio Sgarbi che ha fatto un cameo nel film e secondo me ha funzionato tantissimo. E dove è nata questa idea? È nata da Don Luigi Rossi, che è il parroco di Canna Longa, che mi chiamò e mi disse, ne giovanò, ma se volessimo fare un film qui, tutta la comunità, si può fare? Io dissi sì, l'importante è crederci e quindi alla fine abbiamo messo insieme tantissime maestranze del posto, quindi tante donne che facevano i costumi, Giovanni D'Agosto, la scenografia, che è un professionista in questo, anzi lo saluto, e gli attori del posto stesso, cioè di Canna Longa, che avevano delle esperienze teatrali, ma al cinema non avevano mai provato a recitare e ci sono riusciti benissimo e quindi è un progetto comunitario che, devo dire la verità, ha funzionato molto bene.